Oh! Senti come spinge sta canzone? Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! Senti il pianoforte, senti il pianoforte! Mamma mia, sembra di stare ancora in FNF, ma questa volta saremo su F... 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 FN... A-F, perché siamo su Five Nights at Freddy's Killer in Purple! Questa volta saremo noi ad uccidere le persone, saremo noi gli animatronics, saremo noi William Afton, saremo noi, insomma quello che deve ammacciare tutti quanti all'interno della pizzeria. Allora, ho visto qualcosina, perché sto gioco a una certa è diventato famosissimo, ne hanno fatti tipo tre o quattro. Abbiamo Play, abbiamo Shop. Lo Shop è molto particolare, perché possiamo comprare le cose degli animatronics, insomma, i pupazzoni, dove ficcare dentro le persone, possiamo aumentare la velocità di movimento, il numero di bambini presenti nella pizzeria, senti che musica! La fiducia dei bambini, il livello 2, ossia la cucina, poi abbiamo Dave, Scrap Trap, Old Spring Bonnie, abbiamo un botto di roba, adesso iniziamo subito a giocare, con William, perfetto. Il nostro primo personaggio sarà William, potremo sbloccarne sempre di più. Sta generando la simulazione, guarda che figata! Allora, abbiamo un'abilità, ossia Purple Power, Purple Power, mi sa che è da riparare questa... Posso zoomare? Che bello! Allora, la mia abilità speciale, che bel disegnino! La nostra abilità speciale, è quella di avere il 50% di chance in più, di avere due punti. Ma ho un coltello in mano, ho un coltello in mano, nooo! Ho il coltello in mano! Ho ammazzato un bambino, vai, nuota, nuota! Sì! Così! Foxy, ti serve un bambino per caso? Ragazzi, sta arrivando la polizia. No, 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 no! Ah! Ma coppia! Lasciami! Lasciami! Lasciatemi! Ho un bambino in mano e non ho paura di utilizzarlo. Ho perso, ho perso. E qui... Mamma mia, quanto è grosso e quanto è bello. Allora, non ho capito. Avevo un pugnale in mano, sono uscito dalla porta e giustamente mi hanno devastato. Ma quindi, il pugnale... Ah! Con la E tiro fuori il pugnale! Guarda! Sono, sono quello lato! Che figata! Ah, guarda, il pugnale lo prende in mano davvero. Guardate lì il pugnale. Bellissimo. Allora, salve! Come va? Signora, non puoi andare sugli animatronics, ok? Mi servono dei bambini. Allora, se io premo Q, salve, bambino. No, come get away from me? Va bene, va bene, non c'è problema. Posso esplorare? Abbiamo i cessi? Ok, posso scaricare i cessi? Miglior gioco del 2000, non lo so quando è uscito, ma se io scarico tutti i cessi, sblocco una specie di achievement segreto. Guarda quanto sono bello! Guarda qua! Sono un poliziotto! Sono il poliziotto di Freddy Fazbear! Sono il Freddy Police! Signora! Posso uccidere la signora col coltello? Ah! Non mi ha visto! Signore, il bagno... Questo bagno è occupato... Ehi! Questo bagno è occupato! Fammi vedere che c'è... Fammi vedere che c'è dentro! Fammi vedere che c'è dentro il bagno! Guarda che io riesco a salire, Riesco a salire... Vabbè, non posso vedere cosa c'è... Sono sempre io! Ha! Il poliziotto di Freddy Fazbear! Guarda che mascella! Quanto sono sexy! Guarda! Oh! Coltello! Non coltello! Allora, dobbiamo prendere i bambini e metterli, non ho capito dove! Salve, bambino! Vuole... Vuole venire con me? Da, fidati! Aspetta! Chiudi la porta! Ah! Più un punto! Ok, ok! Come lo faccio a buttare? Ah! Oh! Dove l'ho messo? Ragazzi, mi è sparito il bambino! Vabbè! Salve! Buongiorno! Voi non avete visto niente! Tu devi stare zitto, mi raccomando! Ok! Bambini, venite con me! Bravo, bravo! Vieni qua, papà! Vieni qua! Oh! Ucciso veloce! Ok! Ok, perfetto! Ho ucciso tre bambini! Ma come tre? Io ne ho contati due! Ho fatto due punti! Non, non credo di aver capito! Ho fatto tre punti! Ok! Quanti personaggi ci sono? Springtrap, Springbonny, Golden Freddy, Ennard, Vanni! C'è anche Dreadbear! Mi sembra un po' grosso Dreadbear! Comunque, comunque, devo capire i bambini io li ammazzo! E poi? Cioè, che cosa devo fare? Allora, allora, bambini! Dai, ho preparato la torta proprio per te! Aspetta, posso mangiare la pizza! Ok? Dai, venite! Oh, qua c'è la cucina probabilmente! Aspetta, ho visto un bambino entrare qui dentro! Bambino? Bambino? Dai, avevo visto un bambino entrare qui in una di queste stanze! Oh, lì c'è la mia macchina! Salve signora! Tutto bene? Vabbè, mi scusi! Dai, bambini! Per favore! Venite qua! Devi venire qua! Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo tutti! Entrate qui dentro! Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo tutti! Venite qua! Vi uccido! Vi uccido! Vi uccido? Aspetta, ho capito! Ho capito! Oh, c'è il tizio delle telecamere! Aspetta, 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 aspetta! No, 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 game of it! No! Ma perché? Come si fa? Come faccio? Hanno circondato la mia macchina! No, Fammi andare! Ragazzi, ma è difficilissimo! C'ho cinque punti però! C'ho cinque punti! Me ne mancano altri cinque per avere il costume di animatronics! Che poi non ho capito! Oh mamma mia quanto era grosso! Bellissimo! Ok! Devo uccidere cinque bambini suppongo! Ah no! La Q semplicemente mi dà dei punti casuali ogni volta che la uso! Buono! Buono a sapersi! Però devo capire come ammazzare più bambini possibili! Ok! Ho preso due punti! Buono, buono, buono! Bravo, bravo! Dai! Venite! Bambini! Dove dovete darmi una mano! Come faccio ad ammazzarli senza che nessuno... Aspetta, 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 no, no, non mi hanno visto, non mi hanno visto, non mi hanno visto, bambino dove scappi? Bambino dove scappi? Bravo bambino! Aspetta! Fatto! Preso? L'ho tolto! Ok? Perfetto? Tu? No, 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 non mi possono prendere nel cesso, apri il cesso, non mi possono prendere nel cesso, vero? Non aprono le porte del cesso, shh, dobbiamo stare in silenzio, presso due punti in più, attenzione, 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 sono nascosto nel bagno, loro non possono prendermi, io intanto bevo, non l'acqua del cesso, ma bevo io, shh, continuo ad usare la mia abilità, la polizia non può prendermi qui dentro, giusto? No, 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 perché ho aperto la porta? Perché ho aperto la porta? Quanti poliziotti ci sono? Allora, abbiamo shop, dai, otto punti, me ne servono altri due, voglio sbloccare il vestito da animatronics, voglio capire che cos'è, maledetti voi, allora, salve, buongiorno, tu, dai, sono tuo amico, vieni qui con me, per favore, vieni, non ho preso i due punti, mannaggia, vuoli della pizza? Credo di aver sbagliato, credo di aver sbagliato, vabbè, a questo punto li ammazzo tutti, dai, 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 come si prende il bambino, ok? No, 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 vai nel bagno, nel bagno, nel bagno, nel bagno, nel bagno, nel bagno, ok, loro qui non posso, aspetta, loro qui non possono arrivare, ho dieci punti, attenderò nel bagno fino a quando non sarà finito il mio turno, e poi uscirò, uscirò vincitore, o almeno spero, yes, yes, perfetto, ho ucciso nove bambini, ragazzi c'è un problema, ma io non sento di averne uccisi nove, io mi ricordo che ne ho coltellati tre, shop, oh, perfetto, abbiamo il costume d'anima, ma scusi, una domanda, ah, questi, questi, Dave Scraptrap sono, questi come si sbloccano, sono quelli giustamente di prima, perfetto, dovrei avere il costume da animatroni, il costume da animatroni, se qui ci possono nascondere le persone dentro, per caso, ehi là, ciao bello, bello bambino, vuoi venire con me? aspetta, dai bello bambino, vieni con me, ok, ho preso due punti, tu, ma perché nessuno vuole venire con me, ho messo, guardate che cosa mi tocca fare, vieni qua, vieni qua, devo nasconderli, devo nasconderli, si possono effettivamente nascondere, hai visto? faccio due punti, no, venite qua, sono le porte, tieni, prendi lui, prendi lui, prendi questo bambino, muovi le braccia, picchiali, schiaffeggiali, allora, capiamo, io ho questa bellissima tuta da animatronix, ho fatto due punti, nascondi il coltello, come faccio a convincere i bambini? dai, vieni, venite con me, per favore, ho preparato una torta, una torta tutta per voi, io intanto sto farmando punti, vieni qua, vieni qua, lo nascondo, lo nascondo qua? aspetta, come, come faccio? no, ho sbagliato, ok, devo trovare altri bambini che sono da soli, senza i genitori, che però non posso uccidere, non posso uccidere neanche i genitori, scusa, bambino, vuoi venire con me? per favore, ho trovato, mi sto cagando addosso, dai ragazzi, mancano, vai, 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 no, tu qua non puoi stare, aspetta, c'è un bambino disperso, dove è andato? shh, shh, aspetta, aspetta, no, 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 posso nascondere nel cesso? non lo posso scaricare nel bagno? come lo faccio? eh, c'è un problema, come lo fa? vabbè, non fa niente, via, 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 ficcalo qui dentro, perfetto, vado nel bagno, signora non si preoccupi, esca dall'uscita, ok, vai nel bagno, 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 ok, abbiamo trovato il modo per bypassare la polizia, cioè nascondersi nel cesso, loro non mi vedranno mai e manca, yes, perfetto, ho fatto 11 punti, 11, stiamo capendo come si gioca, questo gioco è bellissimo, no, volevo fare un altro due punti così nel meme shop, ne ho 19, io dovrei in realtà aumentare la trastanza, dei bambini, però è veramente complicato, o aumentare proprio i bambini, quanti ce ne sono, però voglio effettivamente, che cos'è che devo aumentare, prendere un'altra suite di Bonnie, il fatto è che non mi cacano, cioè io vado dai bambini, e non mi cacano, guarda, perché Eric the Gamer mi dice vattene da me, per favore, dai, ho una torta, vieni con me, perché non vogliono venire con me, uGamer47, dai vieni, ho una torta, dai bambino, ho una buonissima torta, venite con me, non potete stare davanti agli animatronics, tu, bambino, vieni, vedi, apro e chiudo la porta, dai, perché, aspetta, vieni qua, vieni qua, dai, come faccio a farli venire, dai, dai, ma è complicatissimo, beh sai che c'è, sai che c'è, sai che c'è, sai che c'è, prendi, prendi e ficca qua dentro, prendi e ficca qua dentro, e ora corri, corri, tu, vieni con me, sta arrivando la polizia, sta arrivando la polizia, chiusi nel cesso, chiusi nel cesso, perfetto, tecnica ninja della chiusura nel cesso, mi hanno preso lo stesso, mi hanno, mi hanno preso lo stesso, ma fino a mo' ha funzionato, perché non ha funzionato più, beh, perché non è andato? Allora ho farmato una decina di punti, e adesso posso comprare la trust, perfetto, ah, e una sola? Figata, quindi adesso i bambini dovrebbero tipo venire da me con più facilità, suppongo, quindi io adesso se faccio vicino al bambino faccio vieni, oh, adesso mi segue, che figata, vieni, vieni, vieni a papà, vieni, 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 vieni a po', non ti azzardare, vai, sì, sì, posso farmare punti infiniti, vieni qua, oh, sì, 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 no, quello non mi ha creduto, vieni, 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 vieni qua dentro, vieni, bravissimo, chiudiamo la porta, t'ammazzo, ok, qua dentro, perfetto, mamma mia ragazzi, allora, mi sa che ce n'era un altro di bambino da qualche parte, ehi là, imbo, dove sei, eccolo, eccolo, dai, dai, vieni, vieni, no, maledetto, 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 ma quello, cosa dovrebbe essere, non mi ha dato neanche i punti, è forse perché lo stavo guardando, scusami, tu, potresti venire con me per favore, ok, bambino di qua, di qua, entra, entra di qua, no, la pizza, la pizza la mangio io, non ti preoccupare, perfetto, devi venire, devi venire qua dentro, vieni, io ti attiro con il pensiero, vieni, vieni qua, oppure vai in un posto dove io possa ammazzarti per favore, andiamo, no, no, di là no, signora, non può stare nell'angolino, bambini, 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 oh, raga, raga non c'è un bambino, vuol dire, eccolo, eccolo, ssh, zitto, c'è la telecamera, dai, vai in una parte dove non ci sia la telecamera per favore, per, no, esce fuori, esce fuori, vai dritto, bravo, bravo, vai dritto, vai dritto di là, di là, vai in quella porta bellissima dove c'è quell'Animatronics che ti sta guardando, maledetti, 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 ma se io provassi la mattata, c'è così, vai, 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 let's go, l'ho fatto alla fine perché sapevo sarebbe arrivato al punto giusto, wow, e ce l'abbiamo fatta, più o meno ho capito adesso come funziona, abbiamo 20 punti e non possiamo comprare niente, possiamo prendere un'altra suite d'Animatronics, ma possiamo aumentare la quantità di bambini, perfetto, adesso finalmente mi credono, ok, se io li riuscissi a prendere tutti e quattro sarebbe top, allora, iniziamo da lui, ovvio, iniziamo da lui, tu vieni con me, non ti preoccupare, follow me, 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 follow 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 me, ok, questo è andato, quel bambino non mi crede ma questo sì, dai, vai, anche tu, no, dai, ma perché sempre due su due, dai, muoviti, entra qui dentro, entra qui dentro, ma guardate questo, e ti piace il coltello, muori, perfetto, lo carichiamo lì dentro, ok, mo devo capire come distruggere questi altri due, o aspetto tipo che si facciano le cinque, li ammazzo entrambi, oppure li faccio entrare lì dentro, ma non so come, per favore, ma se io mangiasse tutta la pizza, posso mangiare tutta la pizza, succede qualcosa? No, a quanto pare non sta succedendo niente, vediamo, no, non è successo niente, ho mangiato tutta la pizza, adesso i bambini non hanno più pizza, dai, in un posto dove non ci sono telecamere, c'è un piccolo Freddy, ok, non mi fa il jumpscare, per fortuna, eh, bambini però, mi dovete dare una mano, andate in un posto più tranquillo, ciao, chica tutto bene, ciao Freddy, ciao Bonnie, signora non può stare, signora scenda subito dal palco, grazie, zitto, 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 bambino qua, c'è la telecamera, c'è la telecamera però, che mi sta guardando, no, bambino, tu, da, da, aspetta, forse riesco a fare in tempo, forse riesco a fare in tempo, dov'è l'altro bambino? No, 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 non riesco a fare in tempo, non riesco a fare in tempo, dai, dai, prima che arrivi la polizia, fammi finire lo, posso comprare un altro coso da animatronics, sì, sì, come game, no, avevo già vinto, avevo già vinto, facciamo i bravi, però altri 5 e aumento i bambini, c'è, mi dice effettivamente cosa fa Dave, ce l'ho, ce l'ho, aspetta, Bonnie, chica, sì, non mi interessa, William, Dave, ok, costa 25, eh no, ma è uguale, è uguale, dai, ma che schifo, ecco, mi servirebbe Scraptrap, ma quanto costa Scraptrap, Scraptrap ha un trust level maggiore degli altri, costa 50, però, anche, beh, dai, 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 facciamo così, facciamo così, aumentiamo la quantità di bambini, perché almeno in percentuale dovrebbe essere leggermente meglio, vediamo almeno se si può fare, ok, se adesso riuscissi a prenderli tutti, vabbè, vieni tu, tu vuoi venire, perfetto, ne ho due, vieni, tu, no, ne ho due, sempre due su due, assurdo, venite, muovetevi, qui dentro, forza, bravi, correte, correte qua dentro, 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 bravi, perfetto, uno, due e sei punti ce li abbiamo, quindi quello ce l'abbiamo già preso, ok, devo capire come ammazzare sempre questi altri due, però è l'una di pomeriggio, PM dovrebbe essere l'una di pomeriggio, dobbiamo solo aspettare le cinque, ammazzarli, buttarli dentro, e il gioco è fatto, California bombazza, qua, ma effettivamente alla macchina si può fare qualcosa, go, ma, effettivamente, con la macchina io posso scappare, vabbè, posso comprare il kids amount, aumenta anche, fantastico, vediamo effettivamente però quanti ne ha aggiunti, però io ho visto una cosa, una cosa particolare ho visto, controlli, ah, guarda, 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 siamo in terza persona, guarda, sono un police, da police, welcome, welcome, io corro sui tavoli, ok, ma quando, adesso ci sono tanti bambini, tanti bambini che dovranno venire con me, tanti bambini che dovranno venire con me, perfetto, ne ho tre, ne ho tre, venite, 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 ho tre bambini, venite, bravi, 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 da questa parte, da questa parte, chiudiamo la porta, papà, papà, no, non puoi scappare, non puoi scappare, non puoi scappare, non puoi scappare, perfetto, ok, usciamo fuori, tu, dai, ma su sette bambini, quattro mi hanno detto di no, aspetta che ce n'è uno lì dentro, questo, bravo, vieni, vieni, vieni da papà, vieni da papà, vieni da papà, entra, entra, vieni, 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 bravissimissimo, ok, ragazzi sta andando molto bene, ce ne sono altri che non ho visto e che sono nascosti, no, qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, qualche bambino è entrato nel cesso, telecamera però mi sta guardando, se solo quella telecamera si girasse adesso, no, c'è la mamma, maledetti voi, maledetti, beh a sto punto ne approfitto, ne approfitto, ne metto un altro, devo provare a nascondermi nel cesso, devo provare a nascondermi nel cesso, prima che arrivi la polizia devo provare a nascondermi nel cesso, aspetta, aspetta, ok, sono nascosto nel cesso, ho fatto un botto di punti, maledetti stupidi poliziotte, bambini adesso tutti quanti mi crederete, tu vieni con me, vieni con me, vieni con me, tu sarai il primo, perfetto, il primo è andato, vuoi entrare? l'ho buggato, buggato il bambino nella porta, tu vieni con me, ragazzi, ragazzi stiamo per fare la partita con più punti in assoluto, e andiamo, perfetto, tu, per venire con me, oh, sto facendo un botto di punti, vieni, 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 perfetto, perfetto ragazzi, facendo, tu, bravo, tu no, tu sì, tu sì, mamma mia, tripletta, venite, venite tutti quanti, ce ne sono altri di bambini, no, manca solo quello, ma posso giocarmela bene, entrate, bravi, entrate, venite con me, non ti azzarda, no, 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 chiudi sta porta, nessuno mi ha visto, nessuno ha visto niente, perfetto, salve, buongiorno, ok, no, no, volevo i due punti in più, ma non fa niente, bambino, ok, signora, mi scusi, non ti baggare tra le sedie, vieni con me e basta, dai, ti prego, ti prego, vieni con me, questo lo facciamo all'ultimo, sono le 5, sono le 5, posso farcela, posso farcela, attendiamo il momento propizio, adesso, adesso, via, 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 ok, sono le 5, dobbiamo solamente sperare che adesso la polizia ci metta un po' ad arrivare, dai, 30 punti, posso prendere un'altra armatura animatronica, vedere com'è, vediamo, avevo fatto altri due punti nel dubbio, bellissimo, shop, animatronic suite, vai, vediamo che chi ci ha dato, dai, dai, chi ci ha messo, non ha messo nessuno, c'è Chica, che figata, Chica tecnicamente dovrebbe darci anche più punti, suppongo, vediamo i quanti, vediamo quanti bambini mi trastano, uno, due, ok, ok, va bene, non fa niente, non fa niente, tutti i bambini con me, grazie, tutti quelli che mi hanno creduto, venite con me, devo vedere quanti punti faccio mettendovi dentro Chica, ok, no, 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 bravi, oh, oh, guarda quanti punti, fatto 16 punti, salve, questi bambini come faccio a prenderli, non ce ne sono altri, vero, bravo, 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 vieni qua, un po' più qua, un po' più qua, dai, dai, entra qui dentro, no, bambino non nel muro, lo posso spostare, non lo posso spostare, vieni qua, io sono della polizia, ti ordino di entrare in quella porta, questi bambini non ho capito che cosa vogliono fare, dovete entrare con me nella porta, se solo riuscissi tipo alle 5 a metterli dentro Chica farei un botto di punti, figo, 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 dai, 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 ciao Chica, qualche bambino, tu, tu, tu che stai camminando dritto, da quella parte, da quella parte, sono le 4, devo aspettare un'altra ora e poi il mio piano malefico potrà avere, non lo so, la luce, qui dentro non ci posso proprio entrare, no, non ci posso entrare, dai bambini, guarda, che succede, no, non succede niente, dai, sono quasi le 5, quasi le 5, mi scusi signora, mamma mia, becca di sto trapezio, entra, non entra, tu entrare, il bambino non entra, dai, non entra, aspetta, sono le 5, momento propizio, e adesso, dentro Chica, no, no, aspetta, aspetta, sì, sì, polizia non puoi farmi niente, ho fatto altri 30 punti, ma sta venendo la polizia, quelli non riescono a uscire, e la polizia non può entrare perché io finisco prima, sfigati, shop, ci prendiamo Dave, così, giusto, giusto per curiosità, voglio vedere in terza persona Dave, cosa, cosa succede, perché sono un po', ma vi rendete conto di quello che sto vedendo io? Perché c'è una melanzana come abilità speciale? Comunque adesso mi rivolgo a voi, lo vorreste vedere un altro video di questo gioco, per vedere dove riusciamo ad arrivare, gli animatronics che riusciamo a sbloccare, e soprattutto quanti punti riusciamo a fare, posso attivare la melanzana, scusa un secondo, sono velocissimo! Ovviamente fatemelo sapere, qui sotto nei commenti, non ci posso pensare il potere speciale è una melanzana,